Who let the dogs out? Who let the dogs out? Saranno almeno 200 gli esemplari provenienti da tutta la provincia di Salerno che il 25 aprile sfileranno sul prato delle fiere di Vallo per aggiudicarsi i prestigiosi riconoscimenti messi in palio in occasione del terzo raduno degli amici a quattro zampe. La manifestazione organizzata dalla Liga Nazionale per la difesa del cane di Vallo della Lucania e dalla Linus Production si svolge con il patrocino del comune di Vallo delle fiere di Vallo e del CONI settore Cinofilia di Salerno all'interno della fiera campionaria Città di Vallo che andrà in scena dal 24 aprile al primo maggio. Il terzo raduno degli amici a quattro zampe vedrà ospiti in azione le unità cinofile della Guardia di Finanza e di altri corpi delle forze dell'ordine che daranno dimostrazione di come i cani e i loro addestratori lavorano in sinergia per effettuare le varie operazioni. Sono in tutto dieci i riconoscimenti che saranno attribuiti per la categoria dei amici e per quella dei cani di razza. I nostri amici a quattro zampe concorreranno infatti per aggiudicarsi il premio per il miglior esemplare di taglia piccola, media e grande il premio simpatia e il premio per il miglior cucciolo in palio per entrambe le categorie. La giuria che valuterà i amici sarà formata dagli studenti delle scuole elementari e medie di Vallo della Lucania ovvero gli istituti Aldo Moro, Alfredo Pinto, Andrea Torre e Martiri De Mattia. Nell'esame prevarrà quindi l'elemento della simpatia e della bellezza. La giuria dei cani di razza sarà composta invece da esperti del settore nello specifico veterinari, allivatori, delegati della Liga Nazionale per la Difesa del Cane di Vallo e del settore cinofilia provincia di Salerno. In questo caso la valutazione consisterà in un vero e proprio esame morfologico rispetto agli standard previsti per le varie razze. Tutti i partecipanti avranno l'ingresso gratuito.